Almeno MrFenix come vi siete conosciuti adesso Il Checco e Jure? Raga già l'ho detto Ma hai raccontato ieri la storia di Checco Checco era entrato nel mio clan Di Clash of Clans Da lì ci siamo conosciuti L'ho fatto mod sul Clash of Clans Poi passiamo su Clash Royale Poi ho detto Matti va di farmi da moderatore E da lì ho sbagliato completamente Perché poi l'ho sentito su TS E poi è arrivato Soul Grazie a me è arrivato Soul Soul è arrivato grazie a me Che Soul mi ricordo che aveva fatto una donazione O non mi ricordo che cosa aveva fatto Aveva scritto una cosa riguardante la tua dieta E quindi mi era arrivato simpatico L'ho fatto entrare io E poi Jure 44 me lo sono ritrovato Un Fortnite mi è sembrato simpatico E l'ho fatto entrare io E invece il più vecchio di tutti Il più schifoso di tutti È JustAlex che ha i tempi di chat Col fratello Tanto tempo fa Leo Game